Intimi ce l'avate voi. Dove sarai domani Gigi e soprattutto nei prossimi giorni? Ti ritroviamo su una panchina tra un po' o non hai più voglia di allenare? No, no, grande voglia. Sì, sì, vado dappertutto. No, la voglia c'è, la passione è tanta, quindi non vedo l'ora andare sui campi e spero che accada il più presto possibile.